ciao a tutti voi oggi facciamo un dolce velocissimo e non ce ne parliamo più per me voi state la ricetta di più bella di tutta la mia vita le palline di cocco e ricotta versiamo tutto qua dentro un po' Lì, pio. Baccarò io. Baccarò io. Baccarò io. a bed cosa? non male dai su dai non so la giocca non mettete il tempo alla mano no io l'hai messo tutto tu non mi chiedi ok metterlo così abbiamo ottenuto uno cocacano e uno bianco iniziamo a fare le palline e poi le mettete nella pallina di cocco io la vera la pallina ok che la vera la pallina Adesso facciamo la stessa cosa, cacao. Ed ecco le nostre belle palline, andiamo a chiesa e poi dobbiamo assaggiare, assaggiamo. Animo, pata, panora, buonga, buonga, buonga. Baja